Nelle prossime ore andrà in porto ufficialmente in Casa Bianca Azzurra una cessione eccellente che di fatto però è già conclusa. Il frosinone sfumato Olaina per rinforzare le corsie esterne del settore arretrato ha infatti acquistato dalla formazione adriatica Francesco Zampano sei presenze nell'ultima Serie A con l'Udinese dove nella passata stagione si era trasferito in prestito da gennaio. Alla Pescara vanno 2 milioni di euro e il cartellino del trentenne centrocampista Matteo Ciofani Abruzzese Doc. In entrata per il settore arretrato i dirigenti del Pescara stanno seguendo con insistenza il jolly difensivo del Carpi Alessio Sabbione. Il giocatore classe 91 non rientra nella lista degli incedibili della società emiliana. Sulla difensore ci sono però anche altre società. Intanto il Delfino in attesa dell'arrivo di Cristian Capone l'attaccante classe 99 firmerà prima l'adeguamento del contratto con l'Atalanta e quindi sarà ceduto in prestito ai Biancazzurri. Andrà via da Pescara Cristian Bonino che approderà alla Juventus B. Il Pescara per sostituirlo pensa sempre all'attaccante della Lazio Alessandro Rossi. Intanto sembra essere arrivata ad una svolta la querelle che riguarda il numero di squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie B. Ieri sera infatti la Lega Cadetta ha comunicato che i calendari del campionato 2018-2019 saranno resi noti a Milano nella sede di via Rossellini lunedì alle ore 19 con l'organico previsto a 19 squadre. La Lega B inoltre scritto sulla nota diffusa alla stampa si riserva ogni azione in ogni sede nei confronti di tutti coloro che si sono resi e si renderanno responsabili di condotte e comportamenti e azioni antigiuridiche illegittime e pregiudizievoli nei confronti della Lega e delle società associate. Le squadre non ripescate sono però pronte a dare comunque battaglia in ogni sede. Tornando al calcio giocato domani i Biancazzurri saranno in campo per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia Team. La squadra del presidente Daniele Sebastiani sarà di scena a Verona per affrontare alle 18 il Chievo guidato da Pillon nella stagione 2005-2006. Chi passerà il turno affronterà la vincente della sfida Cagliari-Palermo.